E puan di puan di puan di puan Hai visto come è facile? Capito? Non cade mai Ma raga però mamma mia Sempre con questi cellulari in mano Dai, veramente Ma vi ricordate quando eravamo piccolini noi? Dai, ci bastava un pallone Giocavamo al nascondino Con... come si chiama? Un, due, tre, stella Ma che è stai là? Si è sempre detto un, due, tre, stella È un chiaro riferimento al fatto che nel gioco tu devi stare fermo là Logico I tocchi per giocare al pallone Ve li ricordate? Ambarabacicicocò Tre civette sul comò Che facevano timore alla Che facevano l'amore con la figlia E timore perché tre civette sul comò in effetti fanno timore Che fai l'amore con le civette? Come fai poi? Insieme l'amore prendi E venire e riappare Scusa, ma che c'avete in testa? Il tuo nido è sui monti Sì Il tuo nido è sui monti perché la sua casa è sui monti e quindi il nido Ma che è una serie di allucinogeni Ma che è Heidi che si fa di LSD Amatriciana, si scrive Amatriciana tutto attaccato con la A Capo di Art Attack Capo perché è una testa quindi è un capo Non è che è il capo È un maschio Massimo Ranieri si chiama Giovanni Calone Ah no ragazzi ho controllato, ho sbagliato Ti sorridono i monti, lo dice la versione estesa Avevamo ragione tutti e due Ma ragazzi è peggio di quella volta che abbiamo scoperto che con l'autorio si scrive con una T È vero? Con una T Grazie a tutti